comunque ragazzi volevo fare questo video post partita perchè i temi sono tanti no? un po' l'ho affrontato su instagram il suo secondo video post partita mentre mi sto guardando inter e juventus mi sembra che rabbio possa giocare a palla a volo cosa succede allora innanzitutto dobbiamo renderci conto che la rom oggi giocava con un calciatore in attacco che è la punta della sesta della decima forse in campionato degli ultimi sette otto anni che è belotti che è uno che si impegna tanto ma se ci fosse stato giaco al top della forma un attimo che baralla forse segna che ci fa affrontarci o niente quindi stiamo andando avanti con belotti che è un attaccante ci mette tanto cuore e fa molte cose giuste ma è limitato poi abbiamo di bala che ci ha dei colpi da fuori classe ma non è non è totti ragazzi non è totti c'è gente che ha paragonato a totti o comunque ha rivisto la classe di totti cioè totti era un'altra cosa io non so se voi non avete in memoria delle partite di totti ma cioè totti riempiva le partite dal primo all'ultimo minuto perché le partite sbagliate anche i derby sbagliati di totti stati però di bala oggi primi quarti cinque minuti totalmente assente anche quando eravamo 11 contro 10 c'è 11 contro 11 e pellegrini stava sbagliando tutto tutto ciò che riguarda la fase di conclusione cioè quando pellegrini di bala non ti mettono dentro gol è un problema perché sono le sottopunte ma diciamo a testa un gol non dica partita ma ogni due partite lo dovrebbero fare e non lo fanno da leschi è andato molto molto in difficoltà cioè è un ottimo calciatore ma non stiamo parlando di un esterno top no wijnaldum ha fatto una partita cesta sta ritornando speriamo che potrà ritornare prima prima del campionato il giocatore che era ma lui l'anno scorso non è che ha giocato con continuità è subentrato molto quest'anno si è fatto sei mesi di rottura della gamba quindi questa è la è quello che è cristante comunque sia essendo giocatore si impegna essendo giocatore io non è che apprezzo del più oggi ho fatto sette otto ruoli l'ha fatto tutti stra bene ma comunque sia un calciatore limitato cioè è un calciatore che ha dei limiti no cristante può essere il calciatore che non vedi che nella squadra anche gli undici titolare per me ci può tranquillamente contestare ti fa anche la differenza ma non può essere quello che ti fa vincere le partite spinazzola oggi zero ragazzi cioè cosa che dobbiamo dire spinazzola non ha più fatto ha fatto due partite in cui sembravo spinazzola l'anno scorso e poi boom rimorto probabilmente c'è muscoli imballati perché sono tante partite a gioco però cioè rendiamoci conto che poi alla fine questo è cioè io oggi vi dico secondo me se c'era una cosa che sai dove avresti potuto cambiare sicuramente le due mezze punte non possono giocare insieme pellegrine di bala perché hanno difficoltà nessuno si inserisce sono due rifinitori a chi rifiniscono a chi rifiniscono se non c'è nessuno da a cui rifinire l'azione cioè non va bene non va bene pellegrine di bala non vanno bene l'insieme non li vedo bene e non li vedo bene ma secondo me non li vedrà bene manco manco molino tra un po però vedremo il problema prima punta è un problema che permane perché la roma ha fatto investimento pesante su abraham e abraham ragazzi non sta performando come dovrebbe performare ma neanche lontanamente c'è abraham adesso deve essere quello che è probabilmente osimen nei piani della roma non lo so qualcosa di simile e non va bene anche osimen è stato aspettato quindi non è che dico che abraham va bruciato buttato nel cassonetto però ad oggi è un problema quindi quindi questo è il discorso non 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 se vincono le partite se non c'è qualità cioè quante palle sono state date a belotti e tante non le ha tenute poi per carità ha lottato su tante palle ha provato a prendere le punizioni tutto quello che vuoi però non c'è qualità in uscita quante volte arriviamo che battono loro l'angolo ci troviamo lì al limite dell'aria e i difensori cose spazzano la palla oggi pure smalling mi ha fatto nervosi tre quattro volte cioè c'era la possibilità di giocare il pallone di stopparlo ricominciarlo io capisco che c'è i piedi quadrati però ci devi provare ci devi provare soprattutto se stai perdendo poi magari fai figurarci e prendi il secondo gol ok ma almeno ce l'hai provato cioè il calciatore di quell'esperienza non si può fa mettere paura da rischio di dover prendere il secondo gol per non ricominciare l'azione e provare a costruire qualcosa no e smalling secondo me è un problema pure con la difesa 3 perché non riusciamo a muovere la palla velocemente dietro andiamo in difficoltà per uscire in questo modo qua poi per carità la Lazio la partita l'ha preparata bene come come dicevo anche su storia su Instagram sono una squadra e c'è una mentalità provinciale cioè non riesce a preparare più della partita a settimana Sarri anche a questo probabilmente rifetto ma il discorso è che te l'hanno preparata bene non hanno preparato quella di coppa sono venuti preparati a fare questa partita qua provocazioni post derby bla 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 ho scoperto adesso che chissante è stato espulso ma ancora lo dovevo perché avevo spento prima degli ultimi minuti chissante è espulso pensato io pensavo che era diffidato e basta quindi questo è il discorso manca manca l'espulsione a coso lì a cataldi perché dato ad un calcio il bar non gliene ha fregato assolutamente un cazzo e non avrebbe cambiato nulla era l'ottantanunesimo minuto quindi non avrebbe cambiato nulla però diciamo c'è veramente poca fiducia nella cassa arbitrale nella un'estate della cassa arbitrale ma va bene questo discorso trito ritrito per il resto per il resto la roma ci ha vinto una coppa l'anno scorso giocandosi giocandosi le partite così senza scoprirsi poi mi fanno rite le persone fanno no vabbè ma ne abbiamo provato dovevamo giocare ragazzi ci abbiamo provato una settimana fa giocare a viso aperto con il sassuolo e ci ha massacrato ti vuoi mettere a giocare a viso aperto con la lazio che ha una squadra di controvietisti cioè ti vuoi mettere a giocare alla roma se era impostata la partita la lazio non avrebbe mai segnato a meno che dun jolly dalla distanza ma lazio non avrebbe mai segnato tu avresti potuto magari andare a segnare con che cosa in quel modo in cui avevi segnato in 11 contro 10 cioè con i calci piazzati poi direte si te poi fanno partita su calcio piazzati sì però ragazzi perché i calci piazzati contano mi fate dire a roma sui calci piazzati i calci piazzati contano la lazio calcio piazzati è una merda perché ha giocatori alti in madre 70 che tecnicamente rapidamente sono molto più veloci dei nostri e quindi danno brillantezza al gioco quando si tratta di giocare palla a terra quando si tratta di andare a colpire la palla di testa vanno in difficoltà e allora ma scegli di giocarsi in quel modo lì è il modo più bello del mondo non lo so se ti fa vincere i trofei è il modo più bello del mondo giocare palla a terra ci abbiamo giocato una vita e non andava bene perché comunque sia poi dopo perdevi le partite adesso stiamo giocando in un modo totalmente diverso perché abbiamo interpreti diversi ma questa è sempre stata la via di murigno non capisco non capisco veramente dove usciate fuori poi alcuni concetti la roma ce l'ha detto questo io non capisco perché non riusciamo a mette gamba sugli esterni questa è la cosa e soprattutto la roma ha necessità estrema di qualche cristiano che lì davanti allunghi la squadra con una certa velocità oltre il fatto che avrebbe la necessità di una punta che tenga la palla in un modo migliore rispetto a quello che fanno belotti ed abram poi vi ripeto belotti belotti lotta tanto guarda questo che ha fatto stop che la palla di mano sta rivedendo una roba incredibile alla juve ormai non va bene neanche parlo perché poi perché erano stati vittime di quell'errore su quel fuori gioco quest'anno e ci stanno a mangiare sopra in una maniera incredibile per non parlare dei ricordi del Milan ieri sera che è una cosa allucinante allucinante mettete le mani nei capelli cioè io un giorno vorrò fare un video su chi pensa che nel calcio non ci siano interessi superiori perché ragazzi chi chi lo pensa veramente una persona non si è mai dovuta relazionare nel mondo del lavoro ad alti livelli ma semplicemente a livello di lavoratori dipendenti in cui ti vengono passate delle tasche le svolgi perché nel momento in cui devi incominciare a relazionare cioè guarda guarda rabbio cosa fa con di mano cioè ma come fa a non fischiare questo fallo cioè rabbio stoppa stoppa la palla di mano poi ci sarà il buon tempone che ti dice il braccio attaccato al corpo cioè rabbio acchitta la palla di mano con il braccio attaccato al corpo ma l'acchitta cioè qui ragazzi stiamo completamente riscrivendo la storia delle regole del calcio veramente allucinante lo sono anche andate rivedere assurdo ragazzi vabbè dai non neanche voglio stare a parlare questa roba detto questo vi saluto ragazzi secondo video di serata lo dovevo fare ci saranno a c'era un altro tema il conclusivo che ho affrontato sempre su instagram vabbè non ci ritorno sulla mentalità della lazio e dei tifosi della lazio questa è una squadra una società dei tifosi che sogno ad andare in champions league per poi uscire a gironi per i qualificarsi in champions league cioè non è neanche colpa magari di tanti tifosi però il fatto che si vivano partite come quelle della conference league male non si vada allo stadio cioè si scelgono si scelgono solamente alcune partite per andare a sostenere la squadra il derby cioè si vive per i derby è una mentalità veramente provinciale e io non l'ho mai fatto c'è anche tifosi da roma che fanno questo ragazzi quindi non è che dico solamente tifosi da razio ma quantomeno la società dovrebbe provare a dare qualche input diverso però alla fine giustamente lo dico che cazzuini frega lui va in champions si inverta i soldi e pace e vabbè niente questo è il destino dei tifosi della lazio bene così bene così detto questo ragazzi il campionato della roma inizia oggi perché la classifica è corta perché la roma ha tutte le possibilità per arrivare in champions league detto questo bisogna migliorare bisogna migliorare decisamente ciao dattica ciao a tutti quanti